lunedì 22 febbraio mentre la chiesa celebrava la memoria della cattedra di san pietro presso la sua casa di pattano si è concluso il cammino terreno di donna antonio mainenti questa mattina alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di pattano è stata celebrata la santa messa eseguiale presieduta dal vescovo della diocesi di vallo della lucania sua eccellenza monsignor ciro miniero tanti gli attestati di stima i ricordi e le testimonianze che hanno invaso i social per ricordare una persona buona e un pastore attento alle necessità del greggio che gli era stato di volta in volta affidato nato a pattano frazione di vallo della lucania il 14 novembre del 1928 nel 1952 soli 23 anni per mano di monsignor savarese è stato ordinato sacerdote dopo alcuni anni di presenza come guida spirituale al seminario il signore ha voluto che guidasse pastoralmente le comunità della zona nord della diocesi dal 1955 al 1975 parroco a rocca d'aspide il più importante centro della val calore già all'epoca è stato poi parroco e fondatore prima della parrocchia santa rita in capaccio pestum dove è rimasto fino al 1993 e poi della parrocchia madre della divina provvidenza in ponte barizzo dal 1989 al 2009 nel biennio 1999 2001 è stato anche parroco nella vasta zona rurale di gromola spendendo ancora una volta le sue energie e mettendo in pratica le sue alte qualità pastorali nominato monsignore nel 2000 dal 2010 era a riposo nella sua casa natale di partano come annunciato dall'attuale parroco della parrocchia di nostra signora della divina provvidenza in ponte barizzo don pino 7 martedì 2 marzo celebreremo una santa messa in suffraggio raccomandando la sua anima al signore che ha fedelmente servito nel suo servizio sacerdotale